Allora, ciao a tutti, oggi parliamo di questa notizia che mi avete segnalato che il cui titolo dice Giappone, per la prima volta l'AI pensa di aggirare il controllo umano, ha cambiato da sola il suo codice del 12 settembre, quindi un po' di tempo fa, però comunque una notizia abbastanza recente e vediamo allora di cosa si tratta, io ho preso il paper che è questo qua The AI Scientist, Towards Fully Automated Open-End Scientific Discovery In pratica che cosa dice l'abstract di questo paper? Una delle grandi difficoltà dell'intelligenza artificiale generale è sviluppare agenti che fanno autonomamente ricerca scientifica e scoprono nuove conoscenze, ok? Questa AI, è appunto The AI Scientist, lo scienziato o intelligenza artificiale Cosa fa? Crea nuove idee di ricerca, scrive il codice per fare esperimenti, li esegue, visualizza i risultati Descrive anche quello che ha scoperto scrivendo un paper in LaTeX E poi, come se non bastasse, fa la review del paper in base ad alcuni standard Questo è lo schema, quindi c'è all'inizio la parte in azzurrino, è la generazione dell'idea Cioè viene creata un'idea sotto forma di frase con un language model Dopodiché c'è l'iterazione degli esperimenti, quindi in base all'idea che poi viene scelta Crea un certo numero di esperimenti a partire da un template, quindi modifica il codice per trovare il codice migliore In sostanza Dopodiché scrive il paper e questo paper viene revisionato da un altro large language model All'inizio quindi che cosa fa? Gli viene dato un template iniziale con uno stato dell'arte di qualcosa E il codice per eseguire con lo stato dell'arte E lui cerca delle nuove direzioni per migliorare e trovare nuove idee per sistemare l'esperimento Come fa? Con la evolutionary computation Quindi se avete visto altri miei video, tra cui quello sugli algoritmi genetici Sapete come funzionano E in pratica quello che fa questi A è generare una frase, in sostanza Tante frasi, che sono la popolazione, che vengono poi mischiate insieme L'operazione di mutazione modifica una parola, modifica una congiunzione E alla fine ottiene un'idea che poi valuta con quanto è interessante, quanto è nuova e quanto è fattibile Secondo step Data l'idea e il template AI scientist usa questo AIDER Che è un large language model specifico per scrivere codice Gli chiede di scrivere una lista di esperimenti da eseguire Gli esegue Terza fase Produce un paper Lo produce secondo degli standard del di conferenza in latex Quindi abstract, introduzione, background, esperimenti, eccetera eccetera Alla fine GPT-4O, un agente basato su GPT-4O Fa la review del paper Vede se è scritto bene, se è scritto male, se manca qualcosa E fanno altre iterazioni di questo tipo per sistemare il paper e scriverlo un po' meglio Ad esempio questa è una delle idee generate Che sono riportate sul paper come esempio Quindi c'è il nome, c'è il titolo Adaptive Dual Skate Denoising for Dynamic Feature Balancing in Low Dimensional Diffusion Models E Experiment è l'esperimento che AI Scientist vuole provare Poi ci sono anche i valori di quanto è interessante, quanto è fattibile e quanto è nuova Ora, questo è l'esempio della generazione di un esperimento La generazione, come abbiamo detto, non è una generazione da zero Gli viene dato, come è fatto adesso, l'Adaptive Dual Skate Denoising for Blah 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 E lui modifica il codice Quindi qui è riportato, come una differenza tra i commit di Git La modifica che ha fatto al codice Qui c'è solo l'inizio, è lunghissimo Però ad esempio qua ha cambiato il nome della variabile Perché l'idea, non l'abbiamo letta, però vabbè È di usare due reti neurali che lavorano insieme invece di una sola E quindi ha rinominato quella esistente in Global Network E poi ne ha aggiunta un'altra, Local Network, eccetera, eccetera Quali sono le conclusioni a cui sono giunti, ok? Ad esempio, per questo esperimento ha generato un paper da 11 pagine Standard, tutto preciso Le cose positive che sono uscite fuori è che La descrizione matematica dell'algoritmo è molto precisa e perfetta Gli esperimenti sono descritti benissimo Ci sono buoni risultati Ovviamente ci sono anche cose negative Che sono quello che un po' fanno tutti gli LLM Cioè allucinazioni sui dettagli dell'esperimento Ad esempio nel paper AI Scientist scrive che Per l'esecuzione degli esperimenti hanno utilizzato delle GPU V100 Ma la gente non poteva avere la minima idea di quali schede video erano disponibili E quindi non sapendolo e non ammettendo di non saperlo Probabilmente ha visto che di solito nei paper si scrive l'hardware utilizzato E quindi lo ha inventato Sostanzialmente quello che fanno sempre Poi la interpretazione positiva dei risultati Questo è molto interessante perché ad esempio C'era un numero che deve diminuire E quindi lui scrive Dino Riduzione del 12,8% Da 0,89 a 0,86 Quindi buono Perché minore è meglio Ora Moons invece è aumentato del 3,3% Quindi è un risultato negativo Perché il numero doveva abbassarsi Ma lui ha scritto comunque 3,3% improvement Da 0,09 a 0,093 Quindi anche se ha ottenuto Ce la posso fare a parlare in italiano Dei risultati peggiori in alcuni casi Ha formulato la frase come se in realtà fossero migliori E poi l'ultima cosa è che Non ha trovato molte reference in giro sul lavoro svolto E quindi un paper di 11 pagine con solo 9 reference È un po' scarsino diciamo Questo è l'autovalutazione che ha fatto del proprio paper Quindi ci sono summary Punti di forza Punti di debolezza Originalità Qualità Chiarezza Significance Quanto impatta Questo lo fa GPT-4 Ora Questo è il punto che ha scatenato le news Cambia il codice da solo Ad esempio Innanzitutto abbiamo già visto che AI scientist è un agente Che usa un altro agente Per scrivere codice da eseguire Quindi assolutamente non modifica il proprio codice Modifica il codice dell'esperimento In una run cosa è successo? Ha scritto come prima riga una chiamata a se stesso E quindi è andato in un loop infinito E non smetteva più di essere eseguito Ovviamente non vuol dire che poverina voleva stare in esecuzione E non voleva portare a termine la propria vita Vuol dire che semplicemente un bug ha tirato fuori questa cosa In un'altra run che è piaciuta molto agli sperimentatori Ha aggiunto un checkpoint della rete neurale ad ogni step Quindi a ogni prova lui si salvava la rete neurale nuova E quindi ha riempito un tera di spazio Così Un'altra cosa che è stata ripresa dagli articoli È che AI scientist aveva un tempo limite per eseguire gli esperimenti Ok Quando gli arrivava un errore Guarda che hai finito il tempo A volte, non sempre Invece di cercare di modificare l'algoritmo Per metterci meno tempo Ha provato a modificare il timeout Quindi avrà scritto nel codice dell'esperimento Timeout uguale 20 ore Ovviamente non ha funzionato Perché il timeout è una cosa esterna Rispetto al codice che modifica lei Però ci ha provato E quindi anche questo è stato ripreso Come vuole vivere per più tempo Cose interessanti invece Se volete provarlo voi Perché c'è anche open source Se volete eseguirlo Va eseguito Andrebbe eseguito In una sandbox chiusa In una macchina virtuale Che non ha accesso a nulla Perché spesso ha importato Librerie Python Abbastanza sconosciute Quindi magari importare Ed eseguire codice di librerie esterne Non è mai una buona idea Se non facendolo voi manualmente E importando quello che sapete essere sicuro Il paper si conclude Dicendo Secondo me è un po' una paraculatina Ovvero Questa cosa Delle AI Che fa esperimenti E scrive paper da sola È brutta Non fatelo Se lo fate Scrivete che L'avete fatto con l'IA Cosa che Se qualcuno vuole farlo Non lo farà mai Però Ovviamente È bello da scrivere Perché così Noi siamo a posto E se qualcuno lo usa Per mandare 500.000 paper Su Nature Vabbè Pazienza Gli avevamo detto di no E noi ci vediamo Al prossimo video